Che immagine vi suggerisce quella di Grillo tra le onde e le correnti dello stretto di Messina? Telese. Sei perfida perché sai che il nostro Federico Mello oggi su Pubblico Giornale ha messo la foto di Grillo a fianco a quella di Mao Zedong e della buonanima Mussolini. E Grillo sta costruendo un'impresa mediatica fantastica, attraversa lo stretto a nuoto, tutti già ci chiediamo se ce la fa o non ce la fa, poi dopo si mette a correre seguito come Forrest Gump, sta lanciando la scalata non solo alla Sicilia ma credo al paese. Il sondaggio IPR Marketing di ieri lo dà un punto avanti rispetto alla settimana precedente. Sallusti, secondo te è una buona mossa mediatica? Mediatica sicuramente, ma se per far parlare di sé bisogna attraversare lo stretto a nuoto, insomma non credo che sia un progetto politico attraversare lo stretto a nuoto. Ci vuole altro? Sì, penso che ci vogliano altro, ci vogliono delle soluzioni, non solo delle proteste. A Parma si sta vedendo che poi il sindaco si sta frantumando contro la vita reale, la politica reale. Un conto è dire che sono tutti ladri, un conto è proporre la soluzione dei miei problemi, il mio problema non è attraversare lo stretto a nuoto.